Ben ritrovati in questa finale URS Prima abbiamo intervistato Fabrizio e Alessandro che sono un po' i collaboratori, i fautori del campionato Adesso siamo con Fabrizio Lepercio Abbiamo scoperto Fabrizio Adesso squadretta Che di recente ha cambiato macchina Abbiamo questo gossip No, era mai le voci si spargo Volevo sapere un confronto tra la macchina precedente e adesso sei X-Ray Come ti stai trovando anche a livello di persone Come ti stai trovando, diciamo, il tuo feeling in pista? Allora, sì, ho cambiato macchina dopo molti anni con la Capricorn A livello di persone a me è cambiato poco perché comunque alla fine li conosco tutti è cambiato solo un contatto più frequente La macchina mi piace è molto facile anche da guidare I tempi sono molto vicini a quelli che facevo precedentemente e niente, per il momento sono contento Allora, oggi in realtà non c'è stata una vera e propria gara però abbiamo visto che comunque si è girato È stata la tua prima volta che hai guidato X-Ray qui a Cassino o sei già venuto altre volte? No, sono venuto sabato scorso a provare la macchina e rispetto a sabato scorso ho levato altri due decimi abbondanti e quindi diciamo che ho molta fiducia in questa nuova avventura e quindi penso che anche domani magari se la pista si gomma qualche lavoretto in più di assetto si può fare qualcosa di più Bene, allora il casamento delle date comunque sia domani sicuramente ti richiameremo dato che siete tutti ancora in finale quindi sarà viva la gara e in bocca al lupo per domani Grazie Grazie sempre per la tua simpatia Bello, figurati